Pia, pia, pia Ecco, forse è l'ultimo giallo Ecco, per me lo chiedete sempre Ho fatto un po' di inal di polvere prima di salutarmi Ciao, ciao Stelline Com'è stato? Io ovviamente spero che vada tutto tutto, tutto molto, molto, molto bene Questa, questa sarà una sorta di challenge Vi proporrò infatti dei suoni che sono sicura Saranno molto, molto, molto efficaci per il vostro rilassamento Ma prima di iniziare Vorrei scomperare la tua mente dai brutti pensieri Questo trigger lo conoscete sicuramente in tantissimi E quando l'ho fatto la prima volta vi è piaciuto tanto E sono stata molto contenta perché l'ho visto fare anche su altri canali Ma, e ve l'ho anche riproposto altre volte sul mio Ma non avete mai ascoltato Io non vi ho mai fatto ascoltare questo trigger sul brujetti Quindi proviamo un po' Ecco, prendo la mia pinzetta E inizio subito a rimuovere il primo Poi, partiamo dai fili gialli Ecco, prendo i fili gialli Ecco, prendo tutti i gialli E via E via Ecco qui poi questo qui abbiamo questo che è lunghissimo piano 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 ecco a ogni filo tolto direi più sollevato ecco qui forse è l'ultimo, si è l'ultimo a giallo ok, adesso passiamo a quelli rossi ecco questo ecco qui ho dimenticato di tagliarlo qui in mezzo ma ci troviamo lo stesso adesso toglierlo piano 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 ok è incredibile perché ho una sorta di telepatia con voi in pratica avevo deciso proprio ieri sera prima di andare a dormire ieri notte di inserire in questo video un suono che non faceva da tantissimo e che vi ho fatto ascoltare una sola volta ma vi è piaciuto tanto tanto e appunto avevo deciso di inserirlo in questo video di riutilizzarlo e proprio questa mattina una di voi mi ha chiesto di poterle sentire quel suono che è tanto le era piaciuto quindi incredibile e infatti lo userò a breve poi capirete e anche quel trigger quel suono è la prima volta che che lo farò solo lo iedi lo prendiamo dalla parte del fondo anche qui ho dimenticato di tagliarlo ecco qui e rimane l'obiettivo ecco ho già tolto ora quel di color lina ok Come state notando ho accorgiato tantissimo, tantissimo le unghie, anche perché sapevo, ve l'avevo già accennato in realtà, ma sapevo che per il momento sarebbe stata l'ultima volta che potevo andare dall'estitista per il momento, quindi ho deciso di farle così a maggior ragione, perché mi sa che tra un po' dovrò farvele da sola e toglierò il gel, per i motivi che sappiamo tutti. Ecco qui, questo pure è lunghissimo. Ecco qua, e vediamo con questi fili azzurri. Ok Ecco c'è l'udino, quindi togliamo di qua Bene E passiamo all'ultimo E voilà Adesso toglierò il cappuccio del microfono perché voglio simulare un massaggio a ta testa con un suono molto, molto rilassante. Credo che sia uno dei miei preferiti Come vedete ho messo della pellicola sul microfono E già questo fa un suono bellissimo secondo me E sopra voglio mettere un po' di schiuma che ho messo prima qui dentro Comunque sicuramente presto farò un roll play Quindi farò un roll play di faccio alla barba Non l'ho mai fatto e mi piacerebbe tanto Allora con questa spatolina prendo un po' di schiuma Ok Ok E la metto proprio qui Prendo un altro po' E ora faccio un bel massacino Prendo un po' di schiuma ovviamente come vi dico sempre in questi video con diversi trigger fate sapere qual è il vostro preferito io dirò che è il vostro preferito ogni volta dicevo di parto con voler fare un video con solo trigger ma poi vi faccio prendere dall'entusiasmo e ne provoco diversi mi piace variare così sono sicura che all'interno di un unico video posso accontentare più persone a presto a presto a presto a presto a presto Io mi incantavo a quando osservare mio padre che faceva la barba e quindi ricordo questo profumo, cioè questo profumo mi ricorda quei momenti, non so perché ma mi piaceva tantissimo e mi rilassava anche forse. Mi ricordo che chiudevo la tavoletta del padre e mi mettevo gli allimpidi perché ero piccolissima e osservavo mio padre che allo specchio appunto si sbarbava e ricordo anche che la tavoletta una volta mi chiesi se potevo farla anch'io, ovviamente mi rispose di no. Grazie a tutti. Ed ecco il trigger di cui vi parlavo quando vi ho raccontato di questa sorta di telepatia. Tra me e una ragazza che mi segue e come vi ho detto questi spazzolini non li ho mai usati sul Blue Yeti e il video in cui ve li ho fatti vedere per la prima volta risale a tanti tanti mesi fa, non ricordo più precisamente quanto. E questi spazzolini e questi spazzolini che servono per pulire i denti dei bambini piccoli. Infatti le loro sedole sono morbide 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 e io cercherò di essere molto, molto delicata nel fare questo suono. Quindi ci tenevo a dirvi una cosa, io volutamente non parlerò di tutto quello che sta succedendo perché credo che questi video debbano servire per distrarci, rilassarvi. Ma anche perché siamo già abbastanza bombardati di notizie, quello che per oggi tengo a dirvi è che spero tanto che voi stiate affrontando questa cosa in maniera coscienziosa, prudente. Quindi mi raccomando a casa ci sono tantissime cose che possiamo fare, possiamo leggere, cozinare un dolce, fare un lungo bagno caldo, godirci il sole di queste giornate, oppure il nostro palcone e conoscerci un po' di più, leggere un bel libro, stare di più con la nostra famiglia. Quindi cerchiamo di vedere del positivo anche in situazioni brutte. Spero che siate appunto prudenti, coscienziosi, ma lucidi e tranquilli. E' difficile, ma siate positivi il più possibile, questo è un consiglio che vi do in generale. Dopo, io sono convinta che dopo tutto questo guarderemo il mondo con occhi diversi, o almeno lo spero. daremo più valore a tutto. Mi sa che questa sfida la perdo io per prima, perché già stranamente, che non è tanto tardi per me, è l'una di notte per me, non è tardi, lo sapete, c'è chi mi conosce lo sa, chi mi segue lo sa, che ho ben altri orari. Ma, stranamente, oggi sono partita che avevo un po' sonno, ora molto di più, ma meglio così, così vado a dormire presto. Io sto seguendo i corsi dell'università online e mi ci trovo davvero bene, è bellissimo. Seguire i corsi da casa, bello. Preparo la mia tisana, mi metto al computer con le cuffie, prendo appunti, davvero bello. E sto mangiando tantissimo, ma proprio tanto. Preparo sempre qualcosa ogni tanto. Vi condivido ciò che prepariamo io e mamma, e le storie di Instagram. Chi non mi segue può farlo. Il mio account, il nome del mio profilo, è come quello del canale, ossia BlackmoonASML. Questo ve l'ho proposto, invece, in uno degli ultimi video, e vi è piaciuto tanto, e anche a me è piaciuto tantissimo. È proprio, sì, è il mio preferito. E sto parlando di questi, di questi pompon. Questi qui. Questi qui che ho preso dalla Tiger. Se vedete il microfono un po' sporco qui, è perché nei video in cui vi ho fatto i suoni con gli slime, per fare l'immagine di copertina, li ho poggiati sopra al bluietti, e ho fatto un macello, non vi dico. Ci ho messo giorni per pulirlo accuratamente, eppure è ancora rimasto qualche residuo, perché lo slime bianco, perché lo slime bianco è abbastanza liquido, quindi si è proprio attaccato dentro. È un casino. Sono una partigione. Non vi faccio anche per me. Non vi faccio anche per me. Non vi faccio solo un po' di va di pulmini. prima di salutarvi fuori e farò anche e farò anche per il video e la ultima volta per il video vediamo purtroppo non sono potuta andare a cercare o a comprare altri di trovare i nuovi trigger ma penso che prossimamente farò un video con i trigger come ho dovuto in soliti ho deciso di salutarvi facendo un countdown da 30 a zero da 30 a buonanotte 30 30 50 80 70 70 ventisei venticinque ventiquattro venti 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 diciannove dicianotto dician sette sedici quindici quattordici tredici dodici quindici quindici dician 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 1 5 4 4 3 2 1 Buonanotte Stelline Buonanotte Stelline fate i bisogni e state tranquilli andrà tutto bene 2 1 2 3 4 5 6 6